sono io il più forte un giorno un lupo che aveva mangiato a crepa pelle e quindi non aveva più fame decise di fare una passeggiata nel bosco è l'ideale per digerire bene disse tra se e se e quasi quasi ne approfitto per sapere cosa pensano di me gli abitanti del bosco incontra un grazioso coniglietto selvatico buongiorno belle orecchie dimmi un po chi è il più forte domanda il lupo il più forte sei tu padron lupo sicuramente e senza alcun dubbio è certissimo risponde il coniglio il lupo tutto fiero prosegue la sua passeggiata nel bosco come sto bene nella mia pelle dice tra se e se respirando il profumo delle querce e dei funghi incontra poi cappuccetto rosso ma lo sai che questo colore ti dona sei proprio un delizioso bocconcino da sgranocchiare dimmi mocciosa chi è il più forte le chiede il lupo sei tu sei tu sei questo è certo grande lupo è impossibile sbagliarsi sei tu il più forte risponde la bambina è proprio quello che pensavo sono io il più forte mi piace che me lo dicano e me lo ripetano adoro i complimenti non mi stancano mai esulta il lupo incontra poi i tre porcellini cosa vedo tre porcellini lontani dalle loro case è imprudente da parte vostra ditemi un po cicciottelli chi è il più forte chiede il lupo il più forte il più coraggioso il più bello sei sicuramente tu grande lupo cattivo rispondono insieme i tre porcellini è ovvio sono io il più feroce il più crudele sono io il grande lupo cattivo hanno tutti una gran paura di me sono il re esclama il lupo trionfante un po più là incontra i sette nani e i ridicoli ometti sapete chi è il più forte chiede il lupo il più forte sei tu signor lupo rispondono i nani in coro è chiaro è deciso è indiscutibile tutti lo sanno sono il terrore dei boschi sono io il più cattivo fra tutti i cattivi proclama il lupo incontra infine una specie di piccolo rospo ciao orribile cosa suppongo che tu sappia chi è il più forte dice il lupo sì certamente è la mia mamma risponde quella specie di rospo cosa povera bestia viscida miserabile carciofo testa dura cerchi rogne non hai sentito bene chi è il più forte prego ma te l'ho già detto la mia mamma è la più forte e anche la più buona tranne con chi è cattivo con me risponde il piccolo drago e tu chi sei io 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 sono il piccolo lupo buono risponde il lupo indietreggiando prudentemente o 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 Grazie a tutti.